di concreto, tutti insieme, di migliore, magari un mondo, ho visto un obiettivo troppo remoto. La parola viene di tutta all'ingegnere Manco che ci illustrerà come mai l'ordine degli ingegneri ha deciso di patrocinare il nostro evento. Grazie ingegnere. Grazie, un caloroso saluto a tutti voi e un ringraziamento anche a Gianfilippo per aver voluto la nostra presenza sia come patrocina ma anche con questo breve saluto di apertura a questo evento. Congratulazioni a voi come associazione di Napoli e Linux User Group per tutto quello che fate, ho visto un poco fuori prima anche le cose che sono state esposte, di grande interesse sotto tutti i punti di vista. In merito agli argomenti di questa giornata di oggi, io ritengo di sottolineare il fatto che state su una strada giusta, nel senso che questo del mondo del software libero, dell'open source, è un tema di grande interesse sociale ed economico. I vantaggi di usare un software libero, quindi di usare distribuzioni Linux nelle varie forme, nelle varie tipologie, sono più che note, quindi non mi soffermo su questi aspetti, come anche i problemi connessi a questa distribuzione sono altrettante note e quindi penso che su quello state lavorando e lavorerete sempre di più affinché questo tipo di software si affermi nel mondo dei server, dei desktop e anche dei dispositivi elettronici più diffusi, compresi gli smartphone che usano il mondo Android. Penso che ci sono molte prospettive interessanti per questo ambito che riguardano sostanzialmente il mondo dei dispositivi e dell'automazione industriale in generale, perché l'uso di software open source che consente anche una visibilità di driver di basso livello, quindi driver fisici e logici, veramente consente di fare applicazioni molto sofisticate e intelligenti, molto smart, per cui veramente quello è un settore su cui io vi invito ad essere molto attivi e presenti. L'altro filone che io reputo interessante e che è in ritardo in Italia ma anche in Europa è questa storia dell'agenda digitale e quindi dell'automazione e dell'informazione della pubblica amministrazione dove già da tempo i DGTPA, CNIBA in precedenza avevano adottato con favore gli open source e che adesso si pone maggiormente il problema perché i vantaggi in termini di economia, stabilità, sicurezza eccetera si pongono maggiormente oggi che si va verso politiche di ridisegno dell'informatizzazione pubblica basate su pochi data center, si parla di 40 data center in Italia per esempio, si parla di funzioni messe in un contesto cloud, quindi questo è un altro mondo di grande interesse e di grandi opportunità e poi voglio aggiungere una cosa che non ho detto prima, cioè io sono anche particolarmente di essere oggi qua con un altro cappello che è quello di Presidente dell'Associazione Ex Allievi dell'Augusto Righi che insieme alla dirigente scolastica che io chiamo Presidente e anche una cara amica, l'ingegnere Vittorio Rinaldi, l'abbiamo fondato qualche anno fa e sono contento perché questi argomenti di oggi e di quello che vi fate tutto l'anno insomma hanno un interesse anche per gli studenti di questa scuola, so che ci sta un laboratorio, ho visto fuori molte applicazioni, quindi di questo sono veramente proprio lieto e anche come Presidente dell'Associazione Ex Allievi vi voglio ringraziare. Ultima nota, prima di dire quello che fa l'ordine in questo settore e che ritengo proprio come importante delle cose che fate, il fatto che questo mondo dell'open source, se volete che nasce nell'81, con l'84, con Stolman, eccetera, dopo tutte le vicende del Mellabs, è in effetti se ci riflettete il primo esempio di come si può usare l'intelligenza collettiva in rete, cioè è un primo esempio di nuova economia non basata su copyright ma su copyleft come si dice normalmente. E quindi diciamo in questo senso come esperienza pilota di questo nuovo modo di vivere l'economia e la socialità in rete, credo che dovete appunto farne tesoro e essere di esempio, stimolare, partecipare anche al dibattito su questi temi che avvengono in altri contesti come la democrazia elettronica e altre cose. Cosa fa l'ordine su questo tema? C'è l'ordine e c'è varie commissioni che afferiscono alle tecnologie dell'informatica e della telecomunicazione, diciamo dell'ICT. E noi facciamo molte cose, sicuramente possiamo spingere anche sul tema dell'open source perché questo tema ci interessa, come dicevo, per gli aspetti di agenda digitale. In questo il nostro Presidente, l'ingegner Vinci, che da poco è stato riconfermato, da giorni è stato riconfermato per il prossimo quadrienne e che voleva essere qui ma non è potuto intervenire, quindi ha delegato me, quindi vi saluto e vi ringrazio per l'invito anche lui, è molto sensibile, per cui io credo che questo è un argomento che intanto noi già sviluppiamo, però credo che sia anche interessante creare delle opportune sinergie. Mi fermo qui, vi auguro un buon lavoro, un buon Linux Day e vi ringrazio di nuovo per avermi invitato. Grazie all'ingegner Manco, dell'Ordine degli Ingegneri, da Vessi Devinaldi. Un saluto veramente per queste opportunità che la scuola riceve dal mondo esterno, in particolare con l'associazione NALUG ormai si è stipulato un patto, un patto di ferro, una sinergia che dura ormai da tre anni, tre e quattro anni, quando io sto qui, questo è il quarto anno. È la seconda edizione dell'Inux Day, quindi sono contentissima di poter essere come scuola protagonista di questo evento, soprattutto per la nostra utenza, per i nostri ragazzi che devono essere, come diceva Steve Jobs, affamati di novità e caricarsi veramente di energie positive per poi sfondare nel mondo del lavoro. Con gli ordini professionali noi appunto lavoriamo a stretto giro e nel comitato tecnico scientifico della Gusto Righi sono presenti appunto diverse aziende del settore, c'è l'azienda Kellion Abstract, per le quali abbiamo avuto anche la possibilità per i nostri allievi di soffrire di borse di studio a fronte di uno stage in azienda e il collegio dei periti industriali che oggi pure ha dato il patrocinio, che il Presidente era impegnato in un'altra manifestazione a Gaeta, però ci ha tenuto a mandare i suoi saluti e a essere sempre presente per qualunque iniziativa noi andiamo a porre in essere. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutti, tutti gli esponenti e gli sponsor della manifestazione. Voglio passare anche la parola all'ingegnere Terno che collabora anche appunto con la scuola sia come rappresentante dell'Orange IT che come Inginfo, che sono aziende che appunto fanno parte del nostro CTS. Un saluto anche da parte sua. Grazie a tutti. Buongiorno, ringrazio la Preside, Gen. Vittoria Rinaldi. Porto i saluti di queste aziende che fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico del Righi e che hanno l'onore di partecipare al Comitato non solo per portare il proprio contributo e anche per cogliere tutte le opportunità che vengono offerte agli studenti, agli ex studenti del Righi e tutte quelle persone anche che fanno parte dell'Università che vogliono portare il proprio contributo. Non dimentichiamo che questo può essere una giornata dove tutti quanti noi possiamo apprendere quanto sia eccezionale la fantasia dei nostri professori campani. La vedremo con un professore dell'Università, Federico II. Poi la vedremo anche con alcuni partecipanti al convegno riguardo a tutte quelle applicazioni che nascono con Linux e con l'open source e poi non dimentichiamo le altre applicazioni che stanno andando avanti tipo le cloud e anche tutto quello che può essere la tecnologia della sicurezza, tecnologia per esempio dei contact center, web center, call center, quindi sono tutte applicazioni dove il mercato aspetta gli studenti e tutti quelli che vogliono far parte di questa folta schiera di futuri esperti, però dobbiamo lavorare chiaramente, dobbiamo essere attenti, dobbiamo avere la passione per questo lavoro e quindi il mio augurio insieme alla preside e anche dell'ingegnere Banco è quello di darvi una buona giornata e un buon convegno del Linux Day. Grazie, arrivederci. Grazie mille. All'ingegnere Aterno, perdonatemi, non ho mai un'ottima memoria con i nomi, perdonatemi tanto, è il mio difetto proprio congenito. Allora, cominciamo con l'intervento del professor Pescapè che ci illustra i risultati del suo progetto per usare un portatile Apple, purtroppo, però professore la perdoniamo.